Allora, vediamo se in quest'ultima oretta riusciamo a risolvere questo terzo esercizio. Stabilimento balneare, nel quale abbiamo il gestore di un stabilimento balneare che vuole vendere dei posti sulla base di informazioni che abbiamo scritte in un file stabilimento che contiene una riga del file per ogni fila di ombrelloni. La prima fila è quella più vicina al mare, quindi immaginiamoci di vedere il mare qua sopra. Questa è la prima fila, seconda fila, terza fila, quarta fila. Per ciascuna fila lui ci dice, questa è la seconda ad esempio, il numero di ombrelloni disponibili in quella fila, 4 ombrelloni, 22 il costo dell'ombrellone, quindi 22 euro l'uno, il numero di sedie a sdraio disponibili sono 8, 2 per ombrellone ne ha messe, e le sedie a sdraio invece costano 12 euro l'una. Quindi questa è di fatto la tabella dei prezzi e della capienza, della dimensione di questo stabilimento balneare. Il costo dipende dalla fila in cui si trovano, decresce in base alla lontananza dal mare. Questa è una cosa importante, cioè ci è detto che i prezzi che ci sono nel file sono decrescenti man mano che andiamo avanti nel file. Il file non è in un ordine a caso, sono per ordine di fila, e i prezzi è garantito, c'è scritto qua, che siano decrescenti. Vediamo poi perché ci serve tra un attimo. A questo punto, ok. Poi cosa faccio una volta che so come è fatto lo stabilimento? Ho un altro file che mi dà gli ingressi e uscite. L'ingressi e uscite, cioè l'elenco delle persone che entrano ed escono dallo stabilimento, perché io devo segnare ovviamente un ombrellone o una sedia a ciascun di coloro che entrano. Quando un cliente entra nello stabilimento, il file riporta una riga, quindi ogni volta che entra qualcuno ha una riga del file, che contiene, leggiamolo sotto che è più facile, il nome della persona, il numero di ombrelloni che vuole, due, il numero di sedie sdraio che vuole, tre, e il budget massimo che è disposto a spendere. Vorrei due ombrelloni e tre sedie e voglio spendere al massimo 100 euro. Quando un cliente esce dallo stabilimento, invece, il file riporta solamente il nome del cliente, quindi questo qua, Alba, è un cliente che è uscito, è uscita. Quindi Alba era entrata a un certo punto, aveva chiesto due sedie, due ombrelloni e quattro sedie, spendendo non più di 90 euro, e poi a un certo punto decide di uscire. Quando esce, ovviamente, gli ombrelloni e le sedie che stava occupando tornano liberi e possono essere segnati da altre persone. Questo è il motivo per cui ci serve sapere che qualcuno esce. Adesso, cosa deve fare il programma? Il programma deve indicare in quale fila può andare il cliente controllando la disponibilità di ombrelloni e di sedie a distraio, ovviamente. Cioè, se lui vuole due ombrelloni e tre sedie, ti devo dare una fila in cui ci siano almeno due ombrelloni ancora liberi e almeno tre sedie ancora libere. E cercando di massimizzare il costo di prenotazione. Ossia, scegliendo la fila disponibile più costosa, cioè più avanti, per questo ci serve sapere che i prezzi sono decrescenti, perché vuol dire che se ti riesco a trovare il posto nella prima fila, ti vendo quella perché è quella in cui ci guadagno di più. Se no, vado nella seconda, se no vado nella terza, ma la fila per me più conveniente è sempre quella più avanti. purché rientri nel budget del cliente. Quindi, alla fine cosa devo fare? Io ho questa tabellina qui, al mattino sono tutti liberi. Poi mi arriva il primo cliente, Gerry vuole due ombrelloni e tre sedie. Allora, due ombrelloni e tre sedie li ho in prima fila, sì, perché ho quattro ombrelloni e sei sedie, quindi posso darglieli. Ci stiamo come budget, allora, due ombrelloni costerebbero 60 euro, tre sedie costerebbero 45 euro, lui è disposto a spendere al massimo 100 euro, quindi non gli posso dare il posto in prima fila. Allora vado a vedere se gli posso dare in seconda fila. Quattro, otto sono sufficienti, perché sono maggiori di due o tre, due per ventidue fa 44, tre per dodici fa 36, 44 più 36 è minore di 100, e quindi gli dirò di andare in seconda fila. E così via. Gli dirò di andare in seconda fila e mi dovrò ricordare che a questo punto due ombrelloni e tre sedie sono occupati e quindi non li posso più vendere a qualcun altro, fino a quando eventualmente Gerry non decida di uscire, ma esce più o meno a fine giornata. Allora, alla fine cosa devo stampare? Per ogni cliente che arriva stampo in che fila, quale fila gli ho assegnato. Poi quando esce un cliente, beh, dico che è uscito, questo è facile, ma soprattutto poi dentro devo tenermi conto che quei posti si sono liberati e alla fine della giornata devo stampare l'incasso. L'ultima riga. Quindi, io ho una mappa delle disponibilità dei prezzi che è questa. I prezzi sono sempre quelli, le disponibilità possono evolvere durante la giornata. perché, no, magari qualcuno si è infilato in quella fila e quindi ho meno sedie, possono decrementarsi o possono reincrementarsi quando qualcuno esce. Io prendo questa mappa qui, immaginiamo proprio di avere questa cosa qua scritta su un foglio di carta, vedo Gerry, faccio il ragionamento che abbiamo fatto prima insieme e dopo che decido che lui va nella seconda fila correggo questo 4, lo faccio diventare 2 e questo 8 lo faccio diventare 5. Sottrago 2 e 3 che sono i valori. E poi vado avanti così. Alba, 2, 4, 90. Già che la prima fila abbiamo fatto i conti, non ci stiamo. Sulla seconda, 44 più 4 per 12, 48, non ci stiamo perché fa 92 e quindi la metteremo probabilmente in terza fila. e così via. Alba l'abbiamo messo in terza fila, sì, eccola qua. Chiaramente più sei pezzente più ti diamo file arretrate, no? Ma questa è la regola. Dobbiamo ricordarci che però quando esce Alba per poter liberare i posti che avevo occupato mi devo ricordare in chi fila l'avevo messo e quanti posti l'avevo dati perché altrimenti non riesco più a reincrementare quei valori. quindi devo tenermi traccia del fatto che ci siano già delle persone dentro e quando escono così so rimettere a posto i dati. Quindi questa tabella qui è fatta di numeri che via via si decrementano finché entrano persone purché non diventino mai negativi e si reincrementano quando escono persone reincrementandole esattamente nella stessa quantità di cui le avevo decrementate quando è entrata quella specifica persona e quindi mi serve ricordarmelo. Allora cosa vuol dire? Vuol dire che mi serve ricordarmelo vuol dire che data quando esce Alba mi devo chiedere in che fila era quante sedie aveva quante ombrile aveva quante sedie aveva queste tre informazioni associate al nome Alba. Quindi io qua mi sto immaginando un dizionario che abbia come chiave il nome del cliente e come valore questi tre valori fila numero di ombrelloni numero di sedie questo dizionario praticamente tiene traccia di chi c'è nello stabilimento aggiungo un elemento al dizionario quando entra una persona tolgo un elemento al dizionario quando la persona esce e poi contemporaneamente andrò a aggiornare il numero di sedie e il numero di ombrelloni ok? Questa è l'idea quindi da dove partiamo? possiamo partire semplicemente da leggere l'informazione sullo stabilimento che sarà è importante l'ordine delle file quindi lista nella lista vado a mettere le informazioni su ciascuna fila quindi l'elemento 0 sarà la prima fila l'elemento 1 sarà la seconda fila e così via leggendole dal file with open si chiama stabilimento.txt in lettura encoding uguale utf8 esf leggo ogni riga for riga in f i campi diciamo così se prendiamo così i campi sono riga punto rstrip del barra n e poi split senza parametri perché sono separati da ah no da virgole scusate split di virgola questi sono tutti numeri interi quindi conviene appena l'ho letto convertirli in interi adesso sta a noi decidere se tenerlo sotto forma di lista o fare un dizionario io ho visto che ci sono dati che hanno significati diversi e sono sicuro che poi mi confondo come già mi sono confuso in un esercito di prima gli do dei nomi quindi per una volta magari facciamo una lista di dizionari quindi stabilimento decido di codificarlo come lista di dizionari quindi append sì append un elemento che è un dizionario che ha come campi ombrelloni che ha come campo prezzo ombrelloni che ha come campo sedie e come campo prezzo sedia allora l'ombrelloni sarà il primo campo del file quindi int campo di zero il secondo sarà int campi di uno int campi di due int campi di tre più la quadra ok e quindi abbiamo una prima fila che è questa quattro ombrelloni il prezzo trenta sei sedie prezzo sedia quindici e così via fino all'ultima fila che è quella l'ultimo elemento della lista sono ordinate per fila quindi come prima cosa leggo queste esnovabilità qua e poi elaboro i vari come si chiama clienti man mano che arrivano addirittura questo file qua degli ingressi uscite potrei anche quasi non leggerlo in una lista perché leggo i dati di una riga faccio quello che devo fare passo la riga successiva quindi posso anche non inventare una lista in cui contenere i campi che tra l'altro sarebbe un po' tipatica perché avrebbe una lunghezza variabile quindi potrei fare tutto praticamente nel main dicendo ok adesso io stabilimento leggiamolo il file ingressi uscite ingressi uscite .txt lettura encoding utf8 allora leggo for riga in F e anche qua posso estrarre i vari campi split virgola allora cosa può succedere quando faccio questo split che se sono in questo caso avrò una lista di quattro elementi se sono in questo caso avrò una lista di un elemento solo quindi a seconda delle lunghezze di questa lista so se sto entrando o se sto uscendo quindi io vado a verificare if len campi uguale a 4 entra else esce chi entra campi di 0 quindi in entrambi i casi possiamo dire che il cliente è il signor o la signora campi di 0 e poi nel caso in cui entra cosa vuole vuole quanti ombrelloni quante sedie e qual è il budget quindi posso estrarre queste informazioni così ce l'ho comodo in tre variabili comode quindi lui vuole numero di ombrelloni uguale int campi di 1 numero di sedie uguale int campi di 2 budget uguale int campi di 3 allora questo signore o signora in che fila lo metto? beh devo andarmi a fare un po' di conti quindi quello che posso fare magari definirmi una funzioncina fila cerca fila a cui a cui dico guarda questo è lo stabilimento chiamato stabil perché stabilimento era lungo e stancava le dita ti dico quindi la situazione attuale dello stabilimento ti dico ti dico il numero di ombrelloni che lui vuole il numero di sedie che vuole e il budget e tu dimmi in che fila lo metto così la parte lì di ricerca che devo fare i confronti la metto in una funzione non mi vado a incasinare troppo qua e quindi dirò a questo punto che questo signore o signora dirò che print come si chiama il nome cliente cosa diceva come lo stampava è in fila tra i detali il cliente è in fila fila più uno ricordiamoci più uno perché nella lista avranno indice che partono da zero ma le file del mare partono da uno però non basta stamparlo devo tener conto devo ricordarmi che cosa è successo che quei posti lì non sono più disponibili e quindi dovrò decrementare il numero di ombrelloni della fila scelta della quantità di ombrelloni che ho dato a questo signore idem per le sedie quindi dovrò dire guarda stabilimento alla riga in cui ho mandato questo signore il numero numero di ombrelloni non è più quello di prima lo decremento del numero di ombrelloni che ho appena assegnato e idem lo stabilimento della fila che gli ho appena dato avrà un numero di sedie che va decrementato del numero di sedie dato alla persona operazioni che quando faccio l'else esce dovrò rifare al contrario quando lui entra tolgo delle disponibilità quando esce le rimetto il problema è che quando esce devo ricordarmi in che fila devo rimettere e quante ne devo rimettere e quindi per questo mi serve ricordarmi dove l'ho messo questo cliente allora per ricordarmi questo io lo posso fare in un dizionario una tabella in cui segno i clienti che ho dentro quindi clienti è un dizionario vuoto quando mi entra il cliente me lo salvo clienti di cliente uguale cosa mi serve sapere la fila numero di ombrelloni e numero di sedie è un dizionario che come chiave è il nome del cliente come valore questa terna di numeri e me li salvo lì quando entra quando esce vado a il nome del cliente ce l'ho e quindi vado a recuperare in questo dizionario la fila gli ombrelloni e le sedie li vado a recuperare da il dizionario quindi vedete il giro che fa l'informazione il cliente in uscita lo leggo dal file questo nome che ho letto dal file lo uso nel dizionario dei clienti che mi dice chi avevo in casa e chi non avevo in casa questo dizionario dei clienti mi restituisce i tre valori che ci avevo messo dentro nel momento in cui quello stesso cliente era entrato e quindi vado a ripristinare sulla fila giusta il numero di ombrelloni giusti e il numero di sedie giusti perché mi ero ricordati nel momento in cui li avevo tolti poi per pulizia quello che dovrei fare è anche un pop del cliente a sto punto dopo che l'ho tolto lo tolgo dal dizionario così se dovessi rientrare di nuovo lo vedo come nuovo man mano che vado avanti io tengo ho due strutture dati che tengo aggiornate una è quella della disponibilità e l'altra quella dei clienti presenti possono capitare due cose due tipi di eventi entra o esce e qui ciascuno di questi due tipi di eventi va a modificare in modo diverso queste strutture dati quando entra aggiungono il cliente al dizionario quando esce lo tolgo il dizionario quando entra decremento di disponibilità quando esce incremento di disponibilità nel posto giusto della quantità giusta ci manca cerca fila che cosa deve fare deve guardare le disponibilità nello stabilimento e restituirmi la prima riga che soddisfa il vincolo ma questa è una procedurina mettiamola qua cerca fila e riceve come parametri abbiamo detto lo stabilimento riceve il numero di com'era copiamola qua numero ombrelloni numero sedia del budget e restituisce un intero che è la fila allora cosa posso fare posso andarmi a scandire le file che ho in un stabilimento for fila in stabilimento non fila perché fila sarebbe l'intero che rappresentare sì sì mi serve l'indice scusatemi quindi for fila in range length stabilimento cioè per tutto il numero di fila che ho nel mio stabilimento verifico se in questa fila ho posti disponibili e il budget è compatibile è lei quindi cosa vuol dire che se devo avere abbastanza ombrelloni quindi stabilimento di questa fila ombrelloni deve essere maggiore o uguale al numero di ombrelloni richiesto e stabilimento in questa fila sedie deve essere maggiore o uguale del numero di sedie richiesto e adesso vi vorrei andare a capo per andare a capo senza confondere python ci devo mettere un paio di parentesi tonde così lui capisce che è sempre la stessa espressione allora if stabilimento and stabilimento maggiori sedie and il budget è compatibile allora il budget come lo calcolo devo fare il numero di ombrelloni che richiedi per il costo di un ombrellone per stabilimento fila prezzo ombrellone più numero di sedie che mi chiedi per stabilimento di fila prezzo ombrellone prezzo sedia se la somma di queste due cose è minore uguale al budget allora se sono vere queste tre condizioni ho abbastanza ombrelloni in questa fila ho abbastanza sedie in questa fila e il prezzo complessivo di queste sedie ombrelloni della fila è minore del budget che hai a disposizione allora vai in questa fila fine quindi in questo ciclo lui parte dalla fila zero se questa fila zero già soddisfa il requisito ritorno zero se non soddisfa il requisito beh il for va avanti passerà alla riga uno riverifica e così via in teoria ci sarebbe il caso anzi sarebbe bene gestire il caso in cui alla fine non lo trovi o perché uno veramente un pezzente ha un budget da 5 euro e vuole 4 ombrelloni e allora non lo troverà mai oppure perché è tutto occupato eccetera eccetera quindi diciamo che se non trova niente ritorniamo un valore anomalo no? in cui dice guarda non puoi entrare quindi in questo caso magari andremo anche a verificare quando ho trovato la fila cerco solamente se fila fosse meno uno devo dire non ci sono file compatibili altrimenti faccio tutto ciò che volevamo fare prima questa cosa qua lo so gestendo l'anomalia che poi sappiamo che in questo esempio non si verifica allora facendo un run di questa cosa qua mi dici che Gerry infila 2 Alba infila 3 Teo infila 4 Mauro infila 4 non ci sono file compatibili non ci sono file compatibili due volte non me l'aspettavo ah no c'è scritto che bravo Franco non ha trovato posto Franco non ha trovato posto 2-3-4-4 non posto poi devo stampare quando qualcuno è uscito ok allora aggiungiamo solo qualche informazione in più per Franco non ci sono file compatibili non ci sono file compatibili e poi devo stampare anche che il cliente è uscito quindi quando esce dico che F il cliente il cliente è uscito poi c'è una print qua che non mi serve più niente mettiamo un commento per separare le funzioni dal programma principale quindi Franco e Nathalie non sono riusciti a entrare giustamente mi manca ancora solo l'ultima riga l'incasso della giornata è vabbè questo è facile perché basta semplicemente quando io vado a fare questi dove sono? l'ingresso devo sommare di nuovo il prezzo di fatto riapplicare quella formula di prima quindi mi faccio una variabile incasso uguale a 0 e questo è il calcolo che devo fare l'ho verificato col budget adesso se il budget è compatibile quando assegno la fila incremento anche l'incasso di quel valore lì un po' peccato calcolare due volte perché uno ti ha una funzione e l'altro nel main potrei ritornarlo dalla funzione anche come secondo valore e quindi alla fine del ciclo 4 stampo incasso la giornata due punti e viene un numero che è 433 che mi sembra uguale a quello dell'esempio ok? allora la difficoltà di questo esercizio era la logica di tenere tracce delle persone che entrano e che escono per poter incrementare decrementare questa disponibilità bisognava riconoscere che bisognava tenere tracce questi valori e farlo in modo più comodo chiaramente gioca anche il fatto che uno abbia scelto di usare una lista piuttosto che un dizionario per certe operazioni per semplificarsi la vita adesso oggi volevano cercare di fare tre esercizi e quindi ho un pochino tagliato corto sui ragionamenti delle alternative possibili e quindi ho già scelto faccio già delle scelte che per fortuna sono andate abbastanza bene in termini di complessità del codice questo qua vedete che era neanche 60 righe di codice abbiamo fatto tutto a volte sono più lunghi a volte sono più lunghi perché sono più complicati a volte sono più lunghi perché magari uno prende una strada che lo obbliga a fare più lavoro o più complicazioni grazie a tutti